Tenetevi forte, sto per farvi guardare il grafico di oggi del prezzo di Dogecoin. Andiamo su CoinMarketCap e al settimo posto tra le criptovalute con maggiore capitalizzazione di mercato al mondo troviamo Dogecoin che oggi fa più 144% in un giorno, più 400% in una settimana e se andiamo a prendere il grafico è semplicemente spaventoso. Magari prendiamo solo a un anno, rimane spaventoso. Questa è una crescita verticale. Prendiamola a un mese e comunque sembra assurdo. Anche a sette giorni, insomma, magari sembra meno assurdo ma comunque è clamoroso e a un giorno è davvero pazzesco. perché ieri era attorno a 13 centesimi e adesso ce lo ritroviamo a 31 centesimi che significa quasi tre volte. Ma che cosa sta succedendo? Beh, innanzitutto va detto che Dogecoin non è una criptovaluta seria. È probabile, non si sanno bene i motivi per cui oggi c'è stato questo boom clamoroso, ma è probabile che sia perché si presume, si pensa, che nei prossimi giorni verrà quotato su alcuni importanti exchange, tra cui ad esempio Coinbase, e siccome solitamente quando delle nuove monete vengono listate su dei grandi exchange, tipo Coinbase, il suo prezzo, il loro prezzo sale, ecco che qualcuno oggi sta comprando Dogecoin perché crede che il prezzo, una volta listato, possa crescere. Poi in realtà molto probabilmente invece quella di oggi è una bolla speculativa, anzi lo è sicuramente, e quindi prima o poi scoppierà. Io non so dirvi né quando né a che livello, ma difficilmente questo è un livello sostenibile. In altre parole, che cosa stanno facendo gli speculatori? Stanno facendo la classica cosa che si fa nel trading, ovvero il famoso buy on rumors and sell on news, cioè compra quando ci sono delle voci, dei rumor riguardo possibili avvenimenti, e vendi quando questi avvenimenti vengono annunciati. Quindi probabilmente quando verrà annunciato eventualmente il listing di Dogecoin su alcuni importanti exchange, allora probabilmente inizieranno le vendite. In questo momento sembra che stiano ancora tutti comprando, perché la notizia non è ancora uscita e il prezzo sta salendo moltissimo. Io ve lo voglio ripetere chiaramente, secondo me questa è una bolla speculativa che scoppierà, però non so dirvi se scoppierà adesso, oggi, domani o nei prossimi giorni, e quindi non so dirvi se il prezzo prima di scoppiare salirà ancora oppure no, questo io non ve lo so dire, cioè potrebbe salire ancora. Il problema è che se dovesse scoppiare questa bolla speculativa, il prezzo potrebbe scendere molto rapidamente, quindi se qualcuno volesse approfittarne deve cercare di vendere prima che la bolla scoppi, perché una volta che poi la bolla è scoppiata, se si vende si deve vendere per forza di cose a basso prezzo. Quindi io non so dirvi come andrà a finire, quello che però so dirvi è che a me questa sembra davvero tantissimo una bolla pronta a scoppiare. Oltretutto c'è anche un'altra criptovaluta, per certi versi gemella Dogecoin, che si chiama Shiba, ve lo faccio vedere, che sta facendo qualche cosa di simile, infatti il grafico è molto simile, ma se andiamo a prendere il grafico a un giorno scopriamo che questo Shiba, che praticamente è cresciuto del 183% in 24 ore, quindi ancora più di Dogecoin, e in realtà il prezzo da qualche ora non sta più crescendo. Quindi magari può anche darsi che faccia qualche cosa di simile a Dogecoin, certo che nel momento in cui dovesse smettere di crescere, visti i guadagni, qualcuno potrebbe voler iniziare a vendere per incassare per l'appunto i profitti. Quindi mi raccomando fate attenzione, se poi volete seguire in diretta questi avvenimenti, vi consiglio di iscrivervi al mio gruppo Facebook Bitcoin Italia Aperto e Senza Scam, di cui vi metto il link in descrizione. Un saluto, ciao!